Un buongiorno a tutti gli utenti, un benvenuto al consueto appuntamento con Piana Stampa, la rassegna stampa di inquieto notizie. Oggi, venerdì 13 settembre, cominciamo sfogliando le pagine del Quotidiano del Sud, che titola Sciolta per Mafia, l'ASP di Catanzaro. Decisione del Governo a sei mesi da quella per Reggio, all'origine dell'inchiesta Quinta Bolgia. Il Ministro Speranza, in Calabria, situazione molto seria, la legalità è essenziale. Pugliese Ciaccio, precari, ispiragli per una proroga, ma è polemica. Oliverio scrive al Ministro, a rischio mille posti di lavoro, all'Ocri, ortopedia declassata, sindaco furioso. All'interno, crisi scongiurata, al centro di Alisi, siamo a Torianova, la legge scena dell'ASP, ha nominato il nefrologo Rosario D'Amore nella struttura, scongiurato anche l'accorpamento a palmi, come inizialmente previsto dal piano aziendale. Non è una regione per i bimbi, non tutti riescono a scrivere i propri figli in strutture private. Secondo l'Istat, solo il 2,6% dei bimbi calabresi frequenta un nido pubblico, anche perché sono davvero pochi quelli attivi, almeno nella zona della piana di Gioia Tauro. Gioia Tauro, depuratore, Alessio, sprono alla regione, prenda posizione. Il sindaco chiede un tavolo tecnico al prefetto. Palmi, cieli tra i giovani amministratori, l'assemblea ANCI, riunione tenutasi a Olbia. Box d'appoggio, Aspi, Padre Monti e Regina, sancito l'accordo di affiliazione. Agricoltura, Kiwi, no alla raccolta anticipata. È un danno, il monito lanciato da Domenico Cannatà, dirigente di Col Diretti. Siamo alla prima pagina di Gazzetta del Sud. Refiuti, sciopero vicino, negativo all'incontro in prefettura tra sindacati, società e comuni di Reggio, Villa e Torianova. Il 25 settembre potrebbero fermarsi i dipendenti di AVR. Gioia Tauro, Porto, in MSC arrivano gli uomini di fiducia dell'armatore a Ponte. E siamo all'interno. A Palmi, la Cassazione, processo da rifare per Giuseppe Franco. Inchiesta Porto, Franco, in M per Giuseppe Florio, ma limitatamente all'aggravante mafiosa. L'imputato Giuseppe Franco, 59 anni, originario di Rizziconi. Palmi, un progetto rivoluzionario per la zona della Marinella, presentato dal Presidente Oliverio e alla Giunta regionale. Ranuccio sarà uno straordinario volano di rilancio. a Sinopoli, Cosimo Alvaro arrestato a Messina. A Palmi, spiagge da ripulire assieme a Vegge e a Galatro. Urge di sboscare la strada provinciale per Cantina Cordiano. Ancora, a Giocatauro, Porto, la crisi dei sindacati. L'azienda va avanti da sola. E ancora, scusate, nuovi cambi. Via il direttore del personale. Dopo mesi dall'arrivo di MSC, latita il confronto. Arrivano due figure vicine alla ponte. Cureranno i rapporti industriali e con le forze sociali. A Reziconi, il futuro di Reziconi, disegnato da Giovinazzo, report a un anno dall'insediamento. Obiettivo prioritario, realizzare presto e bene nuove opere pubbliche. A Rosarno, raccogliere il Kiwi in anticipo ne pregiudica la qualità. Grido di allarme della locale sezione Col di Retti. E a Torianova, centro di Alisi, nominato pure il quarto medico. E qui c'è l'approfondimento, meglio, l'articolo un po' più ingrandito che riguarda il porto di Giocatauro. Vedrà questa l'ultima notizia di oggi. Piana Stampa torna lunedì mattina alle 8.30, come sempre, subito dopo il caffè. A voi tutti, da Lucio Rodinò, la cura di una buona giornata.